Secondo impegno di fila al Morgagni per il Forlì e il quoziente di difficoltà si alzava ulteriormente. Era stata infatti archiviata con una vittoria alla sfida casalinga alla Bagnolese, ma questa volta toccava al Carpi il compito di fare visita alla squadra di Mister Graffiedi in quello che poteva essere definito un vero e proprio antipasto dei play-off, rincorsa alla Gianna Erminio permettendo un vero e proprio saggio anche delle condizioni delle due rivali bianco-rosse entrambe reduce da altrettante vittorie collezionate nel turno infrasettimanale. Approccia meglio alla match Ila Carpi che ci prova con Casucci in un primo tempo davvero scialbo e con pochissime occasioni e da una parte e dall'altra questa la prima sortita offensiva vera e propria della Forlì con tiraccio alto da parte di Maini al 28esimo minuto e poi al 38esimo minuto una crossa dalla sinistra, pala che resta viva la possibilità per l'uomo più in forma della Forlì si tratta di Nardella, conclusione improvvisa ma out. E poi sul finire del primo tempo un'occasione potenziale, importante punizione di Scalini, colpo di testa di Ronchi sul fondo. 0-0 Ila Parziale all'intervallo si ricomincia con maggior abbrivio per quanto riguarda Ila Forlì con Rapai che semina il terrore sulla fascia poi scarica il pallone alla fine, conclusione di poco in out, quella del numero 11 e spostiamoci alla nonno minuto ancora Ila Forlì a provare l'impostazione, palla che arriva sulla destra per questa conclusione di Fornari alta sulla traversa. Forlì che non ha dunque approcciato nel migliore dei modi anche Ila secondo tempo, Carpi che invece ha l'occasione d'oro, traversa gigantesca quella di Casucci dopo che Boccaccini aveva giocato di sponda sul corner battuto dalla sinistra ma non è finita qua, 4 minuti più tardi scappa via Cicarevic, in area di rigore, fermato e poi fallisce un rigore a porta vuota Casucci sparando sul fondo. L'ultima chance per il Forlì al 35esimo minuto, la punizione alta di Scalini, insomma non hanno sicuramente sofferto i due portieri soprattutto quello del Carpi match che a questo punto non poteva che terminare sullo 0-0.